Buona giornata amici di Fano TV, bentornati e bentrovati alla rassegna stampa con la quale Iniziamo la giornata, vediamo le notizie del giorno che vengono pubblicate dal resto del Calino e dal Corriere Adriatico Sono notizie importanti, vediamo anche le manifestazioni del weekend Sarà un weekend con un tempo un po' perturbato ma speriamo che l'atmosfera del Natale prenda il sopravvento Intanto passiamo attraverso l'Almanaco e vediamo qual è il santo del giorno Oggi si festeggia San Francesco Saverio, lo vediamo qui in questa bella immagine San Francesco Saverio chi era? Lo conosciamo un po' tutti, era l'apostolo delle Indie Un grande missionario, fu un gesuita, addirittura fu discepolo di San Ignazio di Loyola Il fondatore dei Gesuiti, si spinse fino al Giappone, attraversò tutta l'India, la Cina Arrivò addirittura in Giappone portando a tutti il Vangelo Un Vangelo che fu dimostrato anche con la sua vita, una vita di sacrifici Un esempio personale fatto di tanto amore e di tanta umiltà San Francesco Saverio Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo Vediamo come in tutte le marche, vediamo la grafica, ecco abbiamo il segno della pioggia Infatti piogge rovesci sono annunciati un po' sparsi in tutta la regione Più frequenti nelle zone interne appenniniche Ci sarà anche la neve sopra i 1500 metri In giornata i fenomeni sono in attenuazione, dovrebbero ridursi dalle 11 in poi I venti sulle coste spireranno con una dimensione debole da ovest Nell'interno invece sempre debole da est Le temperature sono in calo e si aggireranno dai 7 ai 12 gradi E vediamo dunque com'è l'aspetto esterno dei nostri studi Andiamo a Gabicce A Gabicce mare, beh la immagine è un po' fosca Questa è ritratta verso la zona montana del San Bartolo Vediamo il mare grigio, il cielo plumbeo È un aspetto un po' il tipico autunnale invernale Siamo ormai vicini all'inverno Scatterà il 21 dicembre prossimo con il giorno più corto dell'anno Ed ora apriamo i giornali Apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano Vediamo l'apertura, eccola qua È dedicata ad un esperimento scientifico Più che un esperimento è un rilevamento scientifico Da parte del Fano Center Cos'è il Fano Center? Il Fano Center è quel nuovo istituto di studi Che è stato istituito nel laboratorio di biologia marina di Fano Quella bella costruzione moderna che sorge sulla spiaggia di Sassonia Boa per studiare il climate change, ovvero il cambiamento climatico E orientare chi opera con il mare È una boa veramente voluminosa Pensate, circa 6 metri di lunghezza Il peso di una tonnellata È stata messa in mare ieri da un pontone Col compito di rilevare tutti i parametri fisici e chimici anche dell'acqua Insomma, lo stato di salute del mare E sarà consultabile anche da tutti coloro che fanno esperimenti nel mare Fanno una ricerca scientifica per quanto riguarda appunto La vita biologica del mare Adriatico È stata posta a due miglia dalla costa Ebbene, con questa iniziativa parte l'attività del Marine Center Un centro di studi che è stato istituito Con la composizione di molti istituti di studi universitari Istituti di ricerca Insomma, a Fano si sta costituendo veramente un punto importante Per quanto riguarda lo studio dell'Adriatico E poi l'aspettativa è quella di arrivare a formulare previsioni meteo marine Attendibili nel breve periodo Facendo leva anche sul dialogo che Fortuna, ovvero la BOA Imbasterà con le BOE già piazzate a largo di Rimini, Senigallia e Porto Recanati Quindi anche una messa in rete di questi sistemi di rilevamento E poi un articolo qui con il fondo grigio Lo vediamo in questa situazione Parla del grande acquario che dovrebbe essere aperto al pubblico Anzi avrebbe già dovuto essere aperto al pubblico sempre nel laboratorio di biologia marina Si attende una benedetta autorizzazione che tarda Insomma, sistemi, difficoltà burocratiche Perché l'acqua che viene scaricata dalle vasche Poi deve essere riemessa in mare E deve essere ovviamente depurata Quindi ci vogliono le analisi Insomma, tutti questi procedimenti Che procurano lungaggini E non vengono svolti con la dovuta celerità Insomma, anche qui c'è un problema di inceppamento Per quanto riguarda dei procedimenti che devono essere svolti Un grande acquario con dieci vasche Quindi una specie di museo Per quanto riguarda quello che c'è sotto il livello del mare in Adriatico Che può essere così anche un'attrattiva turistica Ma anche un'attrattiva didattica per le scolaresche E andiamo alle altre notizie Ieri è stata presentata la serie di iniziative Che ricordano la tragedia di Corinaldo Quella della Lanterna Azzurra E una giornata che sarà replicata tutti gli anni a venire È fissata per l'8 dicembre L'8 dicembre si ricorda la strage in cui perirono i ragazzi E molti, molti furono feriti Ricordiamo le vittime per andare avanti Ora sicurezza nei luoghi del divertimento Sono queste le parole di Elisa Una ragazza di 20 anni Che ieri è intervenuta in questa conferenza stampa Vedete qui quante persone Molte sono i rappresentanti del COGEO Ovvero del Comitato dei Genitori Che si preoccupa per la sicurezza dei ragazzi Che frequentano le discoteche E qui vediamo anche gli amministratori Vediamo il sindaco Massimo Seri Vediamo l'assessore di Mondolfo Tiritiello Insomma vediamo altre altre persone Questo è il traguardo per il futuro Ovvero assicurare la sicurezza dei ragazzi Ebbene quello che è accaduto Verrà ricordato l'8 di dicembre alle 9.30 Con una messa in memoria da celebrare nella Cattedrale di Fano Alle 11 seguirà una tavola rotonda Nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone Nell'auditorium ormai di Santa Maria del Gonfalone Dove si discuterà sul tema Gli eventi per i minori nei luoghi del divertimento L'importanza di una legge nazionale Occorre appunto richiedere Misure ancora più pressanti Ancora più limitative Per quanto riguarda la libertà di divertimento All'interno delle discoteche Interverranno il governatore marchigiano Francesco Acquaroli In questo convegno E poi ci saranno anche i senatori Guido Castelli Marco Croatti Il presidente nazionale del SILB Che è l'associazione del settore dell'intrattenimento Maurizio Pasca E il direttore dell'associazione marchigiana Per le attività teatrali Gilberto Santini Ma l'importante è la presenza dei giovani del Cogeo Che appunto daranno un monito Con la loro presenza Per incentivare le misure di sicurezza All'interno delle discoteche Adesso parliamo di due spettacoli Di due spettacoli che avranno luogo nel weekend Ebbene questa sera In Teatro della Fortuna Ci sarà il premio Marche Prestigio Si terrà alle 21 Appunto a Fano Un'iniziativa dell'associazione culturale pesarese Opera Sound Che vuole premiare le associazioni, le aziende, le persone Che si sono particolarmente distinte per le loro doti E i risultati ottenuti nel corso dell'anno Chi sono i premiati? Sono Angelo Cruciani Che è un designer artistico italiano Ideatore del Marco Jesael E poi Sofia Raffaelli Oro ai campionati del mondo E campionessa mondiale di All Around 2022 E Sul Vic Una storica agenzia artistica impresariale Insomma, questi sono i premiati Ma lo spettacolo sarà appunto dato poi Con diverse esibizioni L'ingresso è libero Basta prenotare il biglietto al botteghino del teatro Invece alla Rocca Malatestiana Questa sera Lo vediamo qui in questo articolo Ci sarà una prova aperta della commedia La donna con il fiore in bocca di Pirandello In realtà Pirandello scrisse l'uomo dal fiore in bocca Ma il fatto di tirare in ballo una donna Non è casuale in questo caso E il tutto viene inserito nel programma Delle iniziative assunte per il 150esimo anniversario Della nascita di Ruggero Ruggeri Fu uno dei grandi interpreti delle commedie di Pirandello Il grande attore Che governò un po' tutta la scena teatrale Nella prima metà del secolo scorso Che è nato a Fano E a Fano viene ricordato Ora vediamo le altre notizie Ce n'è un'altra che riguarda Fano Che viene pubblicata nella pagina della Valmetauro Ebbene ieri c'è stata una storica firma Lo vediamo qui nel momento culminante Tra gli albergatori e i campeggiatori Albergatori e i campeggiatori sono due categorie Che in passato spesso non è che andassero molto d'accordo Non è che si contrastassero l'uno con l'altro Ma ciascuno pensava agli affari loro Ebbene oggi invece si sono riuniti In un'unica associazione E un'unica associazione che perseguirà fini comuni Del resto sono due componenti essenziali del turismo E proprio al nome di Conf Turismo Fano E si fanno riferimento Quindi sono due associazioni che sono confluite In Conf Turismo Fano Una confederazione turistica Che persegue fini di miglioramento dei servizi Dati alle aziende Ma anche di promozione turistica Appunto per l'una e l'altra categoria E qua vediamo i due presidenti delle associazioni E Luciano Cecchini Qui abbiamo invece Luciano Cecchini degli albergatori Borgoggelli dei campeggiatori E qua abbiamo Amedeo Tazzi Che è lo storico rappresentante dei campeggiatori Ora ormai in pensione E qua invece abbiamo Amerigo Varotti Che è il direttore provinciale della Conf Commercio E la presidente della sezione fanese Barbara Marcolini Passiamo a Pergola Passiamo a Pergola E vediamo come si svolge Una importante manifestazione Cioccovisciola per tre giorni Che permetterà di recuperare Quello che si è perso Per quanto riguarda la fiera del tartufo Che è saltata per l'alluvione La Cioccovisciola per tre giorni Promuoverà anche il tartufo a Pergola I tre giorni sono l'8 Il 10 e l'11 dicembre Giovedì, venerdì e sabato Recuperà in parte la fiera saltata A ottobre per l'alluvione Si tratta della dodicesima edizione Di questa iniziativa La Cioccovisciola è una cosa Veramente ghiotta E quindi conviene andarla a sentire E passiamo anche a Senigallia Dove si accendono le luci di Natale E c'è anche un regalo L'abbiamo visto anche ieri L'amministrazione fa comunale A tutti i senigalliesi E a tutti coloro che vorranno raggiungere Questa località per assaporare L'atmosfera di Natale Due ore di sosta gratuite in centro Dall'8 dicembre al 7 di gennaio Per favorire lo shopping Ebbene, qui vediamo anche alcuni addobbi I cieli stellati Alberi e luminare Che bello show Che è stato aperto Inaugurato ieri a Senigallia Doppio cielo stellato Oltre a Piazza Garibaldi Dove è presente anche Un babbo Natale luminoso gigante E' stato allestito anche in Piazza Roma Sopra l'albero Insomma anche qui si respira l'aria di Natale Vediamo qualche notizia Che riguarda Pesaro Eccola qua Si tratta di assunzioni in comune Stretto tra il PNRR e la futura capitale Il comune che fa recluta Ebbene, ha bisogno di personale Anche perché le iniziative si moltiplicano In occasione della celebrazione Di tutte le manifestazioni relative a Pesaro Capitale della cultura nazionale per il 2024 Per il 2023 invece sono previste 39 assunzioni Per esigenze dei vari servizi C'è bisogno di personale tecnico e amministrativo Ma anche di educatrici Al momento il comune di Pesaro Dispone di una pianta organica di 622 dipendenti E per l'anno 2023 sono previste 39 assunzioni Tutte con contratto a tempo indeterminato Il fa bisogno di personale e di carattere triennale Con validità 2023-2025 Comunque questi nuovi assunti Saranno in servizio a tempo indeterminato Così come abbiamo visto Quindi è una buona occasione Per sistemare diverse posizioni Dal 1 gennaio del 2023 Anche nel comune di Pesaro Entrerà in vigore il nuovo contratto collettivo Per la pubblica amministrazione Un contratto che fissa nuove regole Per la mobilità tra enti In base al numero dei dipendenti Insomma si possono scambiare i dipendenti l'un l'altro Giriamo pagina E vediamo come Non è stato un guasto Quello che ha provocato Il blackout Dei pali Della illuminazione Al porto di Pesaro Ma è stata una azione Dei vandali Luci spente al porto Colpa dei vandali Non dei tagli per risparmiare Anche sui costi La cabina è stata danneggiata Intenzionalmente Marche Multiservizi Fa chiarezza Dopo le segnalazioni Giunte anche in comune Che volevano appunto Che si ripristinassero più presto Le luci in quel posto Anche per questioni di sicurezza E qua invece vediamo Una fotonotizia Per un incidente Che si è verificato Nel parcheggio In via dell'Acquedotto A Pesaro I vigili del fuoco Sono intervenuti Per spegnere un incendio Che ha pesantemente Danneggiato Un camper Che era parcheggiato L'allarme è scattato A metà mattinata Non ci sono state ferite E le cause Che hanno scaturito Le fiamme Sembrano accidentali E poi Domani Sarà il Bomba Day Ovvero Il giorno della bomba Una bomba Veramente considerevole Una delle più grandi bombe Che l'esercito Anzi Che l'aviazione americana Abbia sganciato Sul nostro territorio Durante la seconda guerra mondiale La bomba d'aereo Di case bruciate Tra le più grandi Del centro nord Intitola oggi Il Corriere Adriatico Il colonnello Falasca Nella Task Force Della bonifica Dell'Ordigno Che ha una carica Di tritolo Di 250 chili Ed è una bomba Pericolosa Perché è molto danneggiata E può esplodere E può esplodere Perché è ancora In piena attività Vedete qui Le costruzioni Che l'esercito Dei disinescatori Hanno realizzato Per tutelare Il luogo Dove verrà fatto Esplodere L'Ordigno E devo dire Che questi ordigni In questi ultimi tempi Di questi ordigni Ne sono emersi parecchi In tutto il territorio Segno Che proprio In questa zona La seconda guerra mondiale Ha veramente Determinato Un contrasto Tra i due eserciti Quello nazifascista In fuga E quello degli alleati Che arrivavano Giù dal sud Della penisola Per liberare Appunto L'Italia Vediamo anche Una iniziativa Interessante Dal punto di vista Culturale La pala di Bellini Ora si tocca La pala di Bellini È uno dei più bei quadri Uno dei più preziosi quadri Che siano costuditi Dal museo di Pesaro Al museo di Palazzo Mosca Ebbene Questo quadro Ora viene visibile Tra virgolette Viene reso visibile Anche ai ciechi Grazie ad un basso rilievo Che ne ricostruisce Le fattezze E quindi I ciechi Possono palpare Con le loro mani Il quadro E rendersi un'idea Della composizione Che ha fatto Il Bellini Vediamo anche La pagina Di Urbino C'è un fatto Di cronaca Preoccupante Perché durante Una battuta Di caccia Al cinghiale Un cacciatore È stato Caricato Da un grosso Esemplare Un grosso Esemplare Di 145 Chili Ha fatto in tempo A sparare Quattro colpi Di fucile Ma il grosso Animale Gli è caduto Addosso Ebbene Non riusciva A liberarsi Ha invocato Aiuto I suoi compagni Sono giunti A liberarlo L'hanno visto Con una chiazza Di sangue Pensavano Che fosse Sangue suo Invece Era il sangue Della bestia morta Che gli è appunto Precipitata Addosso Un fatto Che ha messo Molta Molta paura All'artigiano Di 48 anni Che è stato Un po' Protagonista Di questo Evento Ora Diamo un'occhiata Anche alle pagine Dello sport Perché oggi Essendo La vigilia Delle partite Le squadre Sono in allerta Si parla Di calcio Ovviamente E vediamo Che la Vista Andrà a Imola Per lo scatto C'è l'ipotesi Sottili Alle 14.30 Una gara Per la salvezza Tra i possibili Sostituti Di Sassarini Anche il tecnico Esonerato Cinque volte In dieci stagioni E vincitore Di due campionati Invece A soccorso Del Fano Giunge Il presidente Russo Niente panico Dice Mentre La squadra Si appresta Insomma Un po' A cercare Di ragranellare Qualche punto In più Dopo L'ultime prove Non tanto belle Per il campionato Il presidente Si allinea Con i tifosi Vicini alla squadra In questo momento Particolare Serve lucidità E il mercato Si è appena Aperto Mercato Che viene guardato Con interesse Da parte Del presidente Mario Alessandro Russo Che intende Rafforzare La squadra Diamo un'occhiata Ora invece Al resto Del Carlino Che apre La pagina Di Fano Con la boa Che viene Che è stata Ieri Posta in mare Dai ricercatori Di Fano Center Si tratta Della boa Fortuna Così è stata Denominata Posizionata A largo Della costa Fanese Da studiosi E tecnici È un laboratorio Completamente autonomo E trae Energia da sole Quindi si autocarica E qua invece Abbiamo Su questo articolo Di spalla La risposta Dell'Erap Alle segnalazioni Di una anziana signora Residente in via Marche Al poderino A Fano Che lamentava Come Chi non paga Le bollette Trae Fa danni Fa danni anche A chi Le paga Perché poi I riscaldamenti Centrali Vengono chiusi E si sta Al freddo L'Erap Dice Mi dispiace Io non posso Pagare Già Gli affitti Che pratichiamo Sono affitti Molto agevolati E non possiamo Pagare anche Le bollette Per chi Non riesce A pagarli Pagare le utenze Non ci compete Ha detto Il direttore Di Erap Che si chiama Sauro Vitaletti Dopo la denuncia Appunto Della signora Quattro anni fa La strade Di Corinaldo Anche fanno Iniziative Per ricordare Sono passati Quattro anni Dalla strage Di Corinaldo Ma Fano Senigallia Mondolfo E Frontone Non dimenticano Sono queste Le quattro Amministrazioni Comunali Insieme Al cogeo Che intendono Appunto Ricordare Quasi Per fare Un monitop Che queste cose Non debbano Non più accadere E sono le località A cui appartengono Le vittime I ragazzi Che sono deceduti Nella terribile calca Che si è verificata Durante l'uscita Durante lo sgombero Della discoteca Lanterna Azzurra Cioccovisciola A Pergola Una cascata Di gusto L'iniziativa Animerà Tutta la città L'8, il 10 Il 11 dicembre Il tartufo Insieme alle Prelibatezze Sarà anche Il grande protagonista Della tavola Questa volta appunto Si è associato Il tartufo Alla cioccovisciola In modo così Da recuperare Qualcosa Perché si è perso Durante L'alluvione E vediamo qui Questa bella esposizione Di prodotti Che attireranno Tanti Tanti Turisti Anche Da altre località A Pergola La città Dei bronzi Una bella Occasione Anche per visitare Il museo Dei bronzi Romani Ciriamo ancora La pagina Siamo ad Urbino Urbino Che reclama Uno sgambatoio Per i cani La città Ducale È una delle poche Ancora rimasta Senza Questa utile Infrastruttura È l'unica città Della provincia Che non ce l'ha Il sindaco Il progetto Lo faremo Alla piantata Ha dichiarato Il sindaco Gambini E poi vediamo Un atto di onestà Sono sempre belli Questi atti Di onestà Trova nel parcheggio Un portafoglio Con 5.000 euro Una cifra considerevole Che però Riconsegna Protagonista L'avvocato Roberta Martelli Di Mercatale L'ho visto a terra Dopo il concerto Di Max Pezzali La gioia Del proprietario Che ha ricevuto Quanto temeva Di avere Definitivamente Perso Arriva Nelle sale Del cinema Ritratto di donna In paesaggio Film girato Interamente A Urbino La proiezione Sarà stasera Al cinema Ducale Alle 21 E sarà introdotta Dal regista Andrea L'Aquidara Vediamo anche Qualche notizia Di Pesaro Per quanto riguarda Il resto Del carlino Che dà Ovviamente Molto spazio Al Bomba Dei Bomba Dei Gli arrabbiati E gli indifferenti Con chi bisogna Prendersela Se si è trovata Una bomba E si cerca Di praticare Tutte le misure Di sicurezza Ovviamente C'è qualche disagio Per alcuni Cittadini Ma bisogna Avere pazienza In questi casi Lasciatemi A casa Io vado Al ristorante Sono un po' Le reazioni Che si sono avute All'ordinanza Che sgombera Un po' La zona Oggetto Appunto Della operazione Di coloro Che ci creano Di fare Brillare La bomba Domani Il brillamento Dell'ordigno Di 450 kg La gente Si prepara Il disagio Di qualche anziano Per altri L'occasione Di una Scampagnata E dalle 8 Alle 15 Tutta la zona Deve essere Sgomberata I residenti Dovranno lasciare Le proprie case E non potranno Tornare Se non Nel pomeriggio E qua Vediamo In questa Tabella Le disposizioni Che sono In atto Vediamo Che il comune Indica Alle 15 Ma potrebbe Essere anche Qualche minuto Prima Il rientro Nelle abitazioni Il sito del comune Comunque Pone sempre Degli aggiornamenti Nella pagina Di facebook E i numeri Utili Sono Lo 0721 387 616 Lo vedete Qui In questa Grafica E poi Per coloro Che non sanno Dove andare Un punto di ristoro È stato allestito Alla vitifrigo Arena La regione Sbagli i conti 32 Senza premi Covid Ebbene Avrebbero dovuto Ricevere Quegli 800 euro Che il governo Ha stanziato Per coloro Che sono Nelle condizioni Di avere Dei soldi In più Ma La regione Sbagliando I conti Sembra Che non Li abbia Considerati E qui Appunto Si parla Di questo Problema Vediamo Ancora Un articolo Che riguarda L'apertura Del punto Nascita A Pesaro Il 5 dicembre Riapre Lunedì prossimo Il blocco Materno Infantile Chiuso Da due anni E mezzo Riattivato Anche il pronto Soccorso Pediatrico Un servizio Molto atteso Dai pesaresi E noi Con questa Notizia Chiudiamo La nostra Rassegna Stampa Vi do appuntamento Lunedì prossimo Alle ore 7 Vi auguro Un buon Weekend Che dire Che sia Un weekend Sereno Per tutti noi Grazie per l'ascolto A risentirci